Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione del Tg10, l'apertura del telegiornale dedicata ai nuovi servizi demografici che saranno attivati al comune di Gela. L'approfondimento in questo servizio, vediamo. Arrivano delle importanti novità per i servizi demografici del comune di Gela. I cittadini al momento del rilascio o del rinnovo della carta d'identità dovranno esprimersi sulla loro volontà in fatto di donazione di organi e tessuti post-mortem. Le informazioni fornite dagli utenti saranno riportate nel quadro dei dati utilizzati nella procedura per l'emissione o il rinnovo del documento. Gli stessi dati saranno dunque fruibili e consultabili velocemente da parte del centro di coordinamento regionale dei trapianti. È una volontà che ognuno di noi deve esprimere quanto è sano di mente e quindi è stata data disposizione di poter mettere questo dato sulla carta d'identità al momento della richiesta. Questo dato naturalmente verrà inviato al centro nazionale trapianti e quindi se un giorno purtroppo bisognerà porre questa domanda, questa decisione è stata già presa a monte dalla persona che più di tutto ha diritto di disporre del proprio corpo, della propria vita che è la stessa persona coinvolta, sollevando da grossi problemi effettivamente i familiari e i cari. Quindi è un atto che consente di poter aumentare le donazioni perché ricordiamo che donare è un atto d'amore, è un atto d'amore che salva molte vite umane. Salva molte vite umane e in Sicilia purtroppo rispetto alla media nazionale siamo di la lunga lontana a raggiungere le medie che ci sono in altre regioni d'Italia. Quindi a Gela in questo modo cerchiamo di poter finalmente aumentare la donazione però senza far pesare questo sulle persone care. Questa è stata una richiesta da parte dei cittadini e soprattutto di alcune associazioni di volontariato come l'Admo che vivono tutti i giorni questi problemi e che vivono tutti i giorni queste criticità. Quindi sono persone che stanno dentro questa problematica. Il sindaco di Gela ha inoltre dato mandato ancora ai servizi demografici di avviare l'ITER relativo al rilascio della carta d'identità elettronica ai cittadini che avrà efficacia anche come carta servizi. Può essere utilizzata anche come carta servizi, può essere utilizzata per tanti altri, oltre ad essere più comoda, essere come una carta di credito praticamente, ma consente di accedere ad altri servizi. È un nuovo strumento che sta iniziando in altri comuni e quindi ha dato mandato per poter vedere qual è l'ITER da affrontare per poterla emettere pure nel comune di Gela. Blitz della Polizia Municipale di Gela ha sequestrato un negozio cinese. I particolari in questo servizio? Agenti di Polizia Municipale coordinati dal comandante Giuseppe Montana hanno eseguito controlli presso un negozio di abbigliamento, calzature e accessori gestito da un cittadino cinese lungo la strada statale 117. L'attività, che si estende su una superficie di 400 metri quadrati, è risultata priva di qualsiasi autorizzazione. La Polizia Municipale ha così sequestrato il negozio e combinato al titolare un verbale di 3.000 euro. Il comandante Giuseppe Montana. L'operazione di Polizia non aria che sono state contotte nei giorni scorsi hanno portato non solo a controllare i soliti ambulanti abusivi che troviamo sulle strade delle cittadine, ma hanno portato a controllare diversi esercizi commerciali a posto fisso. Ciò ha determinato numerosi verbali per quanto riguarda l'occupazione abusiva di suolo pubblico, ma ha determinato a caso eclatante anche la scoperta di un quasi centro commerciale totalmente abusivo. Si tratta di un negozio di 400 metri quadrati adibito alla vendita di prodotti di pellame, pelletterie in particolare, tipo scarpe, borse e così via. Bene, è stato scoperto che questo intero negozio, ripeto, 400 metri quadrati, era primo di qualsiasi autorizzazione e peraltro era addossato ad un altro negozio che invece era autorizzato. In pratica i gestori, facendo affidamento su quella parte del negozio che era autorizzato, avevano cercato di eludere i rigori della legge e hanno aperto un'altra campata di 400 metri quadrati abusivamente. Ciò ha portato in primo luogo al sequestro dell'intero edificio e al sequestro di tutto ciò che c'era all'interno, quindi di tutti i prodotti posti in vendita, con la posizione dei sigilli. È chiaro che si tratta di un'operazione di polizia non aeree che si inquadra in tutto quello che è stato fatto di recente dalla Polizia Municipale e anche unitamente ai carabinieri di Gela, che ha portato a diversi controlli, tra cui anche l'ultimo controllo effettuato al mercato settimanale e il penultimo effettuato al mercato via Madonna del Rosario e tutti i controlli effettuati lungo le strade cittadine. Un giovane di 29 anni è morto a Gela nella zona di Sant'Ippolito. Sarebbe precipitato dal balcone di casa. Nulla sono serviti i soccorsi del 118. È morto sul colpo a seguito dei traumi riportati nella caduta. Gli uomini del commissariato di Niscemi, coordinati dal commissario capo Andrea Monaco, hanno denunciato in stato di libertà un giovane niscemese di 28 anni, sorprese in flagranza di reato, di detenzione, fini dello spaccio, di sostanza stupefacente. Il giovane è stato trovato in possesso di uno spinello. Nel successivo controllo presso l'abitazione del Niscemese, la polizia ha rinvenuto 0,5 grammi di ascisce e 0,2 grammi di marijuana all'interno di un cassetto, oltre una piccola serra rudimentale al cui interno erano custodite 4 piantine di marijuana in fase di primissima fioritura. Cambiamo argomento sull'utilizzo dei fondi di compensazione Eni. Interviene il segretario cittadino dell'Udc. Il partito, dopo un dibattito al suo interno, ha avviato anche una serie di consultazioni dei cittadini in giro per i quartieri di Gela. Sentiamo. Salvatore Encardona, segretario cittadino dell'Udc. Il partito comincia a interrogarsi sull'utilizzo dei 32 milioni di euro, di cui si parla moltissimo in queste settimane. Ma non soltanto vi interrogate all'interno del partito, ma avete anche consultato i cittadini? Sì, chiaramente la nostra linea già tracciata subito dopo il congresso del 28 febbraio è proprio quello di incontrare giorno per giorno i cittadini di vari quartieri. In questi giorni l'Udc si è recato all'interno dei quartieri della città e ha incontrato parecchia gente. Parecchia gente che ci ha proprio fornito delle istanze da portare all'amministrazione. Chiaramente noi non ci poniamo come un'opposizione a tutti i costi. Io questo l'ho sempre ribadito. La logica dell'opposizione non ci interessa. Quello che ci interessa è solo ed esclusivamente lavorare e fare il bene della città. Chiaramente si parla, e io da cittadino gelese me lo auguro, di una gela vocazione turistica. Ma non possiamo pensare al futuro quando invece mancano i servizi essenziali che motiverebbero il soggiorno di un soggetto in città. Che cosa è emerso dal dibattito all'interno del partito e invece dalle dichiarazioni, dalla consultazione così informale dei cittadini? Sì, il partito chiaramente lavora anche in concerto con la cittadinanza. Diciamo che le istanze sono, se non identiche, ma molto simili a quelle del partito. Chiaramente il partito pensa anche ad un'alternativa all'indotto, quindi lo sviluppo di ciò che siano i settori dell'agricoltura, del mare. Ma ci sono anche dei problemi minori ma che non vanno tralasciati. La gente mi parlava ad esempio di un piano colori di cui si parla da parecchi anni, ma un piano colori dove nessuno mai ha messo mano. Perché non iniziare con anche il minimo? Ci sarebbero due possibilità attraverso il piano colori, ad esempio, dare una possibilità a quelle aziende medio-piccole che oggi sono costrette a chiudere i battenti, ma e poi rendere soprattutto una città più bella. Tra i servizi essenziali invece che cosa avete annoverato? Tra i servizi essenziali chiaramente il decoro urbano, la viabilità, soprattutto la viabilità, e comunque una pulizia. Abbiamo dato anche spazio a quello che può essere il collettore fognario e a quello che può essere la pulizia delle caritoie, perché sappiamo benissimo che durante la stagione delle piogge Gela è interessata da numerosi disagi, mi riferisco ad esempio alla Via Venezia. Il concetto fondamentale dunque ci sembra di capire prima di accogliere e pulire casa? Sì, chiaramente e senza dubbio le compensazioni sono a servizio della città. Non possiamo parlare di Oratorio Salesiano o Ostello della Gioventù, che attenzione, lo ribadisco, sono tutte bellissime iniziative, ma dobbiamo prima partire dall'ABC per poi arrivare alla Z. Questo, ripeto, noi ci impegneremo, vigileremo sull'operato dell'amministrazione e non risparmeremo le critiche dove dovessero esserci. Una interrogazione sui pasti somministrati a scuola e sul trattamento degli scolari celiaci è stata presentata dal consigliere comunale Giovanni Panebianco. Sentiamo. È stata sollevata con una interrogazione dal consigliere comunale Giovanni Panebianco la questione relativa alla qualità dei pasti somministrati nella refezione scolastica e al trattamento dei soggetti celiaci. Si chiedono chiarimenti su diversi aspetti. Allora, da diversi giorni ho avuto delle lamentere da parte di molti genitori di alunni, soprattutto del plesso Ortisi e quello di Via Europa, che appartiene al plesso Luigi Capuana, in relazione alla qualità del cibo erogato, fornito dalla ditta che si è giudicata in servizio, ai bambini, in termini di durezza della carne e soprattutto ai panini che sono forniti quotidianamente. Mentre per quanto riguarda il plesso della Via Europa di Luigi Capuana, ci sono dei bambini celiaci e a quanto pare la ditta non fornisce né il menu settimanale, con l'indicazione degli allergeni che sono indispensabili per questi bambini, per sapere se vi sono presenza nei prodotti di alimenti che possono influire su questo stato di salute e anche per quanto riguarda i pasti non vi è certezza che gli stessi siano prodotti in modo tale che non ci sia nessun problema per questi bambini. Ho scritto più volte sia all'assessore che al dirigente del settore per verificare questa situazione e secondo me ho proposto attraverso un'interrogazione anche l'istituzione di un nucleo di valutazione che sia composto non solo da rappresentanti dell'ente comunale, ma anche dai rappresentanti dei genitori e delle istituzioni scolastiche e anche dell'ASPA, in modo di vedere, in modo che mensilmente si possa andare a accertare la qualità del cibo che viene dato ai bambini, soprattutto ricordiamo che sono bambini di tenerissima età e quindi la qualità ma anche la fattura del cibo è indispensabile perché venga data loro una corretta alimentazione. Esiste per il sindacato, esisterà sempre una profonda differenza tra gli annunci, le speranze e i fatti. Il governo regionale ha avuto fretta di annunciare la soluzione dei problemi dei lavoratori dell'indotto Enige. L'anno invece abbiamo detto e ribadiamo un piccolo passo avanti per i lavoratori licenziati nel 2015 e nulla di più. Lo scrivono in una nota inviata alla stampa i segretari generali CGL, Cislewil, Giudice, Gallo e Castania. Malgrado gli sforzi della prefettura di Caltanissetta, denunciamo lo stallo che sta determinando il licenziamento e l'avvio della procedura di mobilità per 115 i lavoratori della SMIM impianti. Leggiamo ancora nel documento, assurdo, ingiustificabile, affermare il contrario da parte del governo come se tutto si fosse risolto, ma non è così. Lo può diventare se il governo emette un decreto di proroga della cassa inderoga così che si bloccano i licenziamenti e non ci si limita agli annunci che piegano la serenità dei lavoratori. Nel contempo concludono i sindacalisti, CGL e Cislewil hanno definito un percorso con le aziende del diretto per fornire elementi precisi per la quantificazione del relativo fabbisogno dei lavoratori interessati alla CIG per sottoporre il tutto al Ministero del Lavoro. Mi sono voluto dedicare con il mio studio finale all'Università di Catania su quello che è il nuovo processo di riconversione e in particolare su quello che è il bilancio energetico e ambientale dei processi che verranno. Uno studio interessante perché quello che è emerso di fatto porta delle emissioni in atmosfera di ben il 60% in meno rispetto a quello che era il vecchio processo di raffinazione del petrolio. È uno studio fatto su dati certi forniti naturalmente da Eni. Uno studio venuto dopo sei mesi di stage all'interno dello stabilimento, quindi della raffineria. E' in partenariato quindi anche sviluppato, in seguito verrà anche sviluppato dal Dipartimento d'Ingegneria Industriale di Catania diretto dal professore Francesco Patania, dall'ingegnere professore Francesco Patania. E' interessantissimo perché è attualissimo, perché ha dato un chiaro segnale di quella che è la fattibilità dei nuovi processi. Si è calcolato anche un indice di rendimento di tutto quello che è il processo green, che è ben superiore a quelle che sono le aspettative. Pensa di poter mettere a disposizione questo studio anche dei colleghi dell'Assemblea? È normale che quando si parlerà di Eni avrò praticamente un qualcosa in più rispetto ad altri perché so di fatto di cosa si sta parlando, nello specifico ecco, parlando proprio di tecnicismi, parlando anche di quelli che sono i singoli processi, parlando di quelle che di fatto sono le emissioni reali e l'energia e il processo che verrà in un futuro all'interno del nostro sito industriale. È stata una scelta studiata a monte, nel senso poter affrontare uno studio che poi potesse essere sfruttato comunque anche per delle vicende pratiche e reali che si stanno sviluppando proprio in questi mesi a Gela. Diciamo che mi sono trovato al posto giusto e al momento giusto perché si parla tanto di fattibilità o meno, se è un pagliativo per poter far rimanere Eni qui a Gela. Io penso che di fatto ci può essere uno sviluppo attraverso quello che è il green diesel e quelli che sono i processi futuri perché si parla anche di un aggiornamento degli impianti per quelle che possono essere anche cariche di seconda e di terza generazione, quindi si parla anche di biomassa, di percolatore di rifiuti, cioè il rifiuto può diventare anche risorsa per il nostro territorio. Realizzabile a Gela? Assolutamente sì, questo può essere il futuro industriale per la nostra città. Congratulazioni. Grazie. Domani alle 9.30 presso la Sala Riunioni del Museo Diocesano di Piazza Armerina, il Vescovo Rosario Gisana incontrerà nell'attuale conferenza diocesana del Servizio per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica il gruppo di lavoro diocesano assieme ai referenti vicariali e parrocchiali. Si farà il punto sulla giornata nazionale di sensibilizzazione e promozione alla firma dell'8x1000, relazionerà il gelese Orazio Sciascia. La spiaggia della discordia è il tema più dibattuto della settimana a Gela e per questa Gorà non poteva non occuparsene. Il rotocalco di approfondimento giornalistico della nostra redazione, ideato e condotto da Franco Gallo, accenderà questa sera i riflettori sulla tanto discussa ordinanza sindacale con la quale si istituisce in un tratto del litorale gelese ricadente in Contrada Bulala un'area riservata ai bagnanti che si professano naturisti o per essere più precisi bagnanti nudisti. Quello che sembrava a primo acchitto un argomento di costume ha invece scatenato un vespaio di polemiche e di giudizi contrastanti tanto che l'argomento è diventato persino terreno di battaglia politica. Se ne parlerà dunque questa sera da Gorà a partire dalle ore 21 su Canale 10 con ospiti in studio. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale, un book fotografico per raccontare 20 anni di musica dell'Associazione Culturale Giuseppe Verdi preseduta da Salvatore Domicoli. L'iniziativa si terrà oggi alle 18.30 nella Casa del Volontariato di Via Ossidiana, prevista anche un'esibizione musicale. È previsto per domani alle 18 al Porto Rifugio di Gela l'evento Slow Pischi, promosso dall'Associazione dei Pescatori del Porto Rifugio di Gela e dall'Associazione Slow Food Niscemi Terre del Maroglio, prevista la degustazione di piatti tipici del mare gelese. Dopo il sit-in di martedì scorso a Palermo, che ha visto scendere in piazza 250 lavoratori dell'IRSAP e i segretari regionali della CGL Cisle Will per chiedere lo sblocco dei fondi necessari al pagamento di quattro mensilità retrate e la proroga dei precari, i sindacati esprimono titubanza sulle soluzioni prospettate dall'assessore regionale alle attività produttive, Mariella Lobello, ossia la proroga dei precari per quattro mesi e il pagamento degli stipendi attraverso la società ReSais, preservando così le somme dall'aggressione di eventuali creditori. Difatti l'IRSAP istituito con la legge regionale 8 del 2012 è rimasta una scatola vuota e ad oggi è senza governance né dotato di pianta organica. Inoltre i 10 milioni di euro stanziati nella legge finanziaria dalla regione non sono sufficienti per pagare gli stipendi ai 357 dipendenti degli ex consorsi industriali che ammontano a 13,7 milioni di euro. Quello che ha prospettato l'assessore può accontentarci al metà, di certo dobbiamo vedere come questa norma verrà attuata, che percorso prenderà e poi decidere se effettivamente è quella la via da percorrere. Di sicuro alla base di tutta questa avvertenza va affrontata la riforma dell'IRSAP che non è stata attuata. Ricordiamo che la legge numero 8 del 2012 aveva istituito l'IRSAP e a tutt'oggi ci troviamo di fronte a un istituto senza governance e senza pianta organica. Quindi di fatto un istituto che riceve i finanziamenti delle regioni e li dà a dipendenti che non ha impianta organica. Quindi le richieste del sindacato sono indubbiamente essenzialmente quello di portare a fine la riforma, di attivare i processi di stabilizzazione dei precari e di prevedere nel bilancio della regione capitoli di bilancio destinati solo per il personale, quindi il sindacato personale e capitoli per la gestione dell'ente. Perché a tutt'oggi, nonostante il finanziamento di 10 milioni di euro stabilito in finanziaria, non è questa somma sufficiente per soddisfare sia le retribuzioni del personale che le somme per la gestione dell'ente. Nell'ambito dell'itinerario biblico sulle opere di misericordia, domenica 10 aprile alle ore 18.30 si terrà nella parrocchia Santa Lucia di Gela la celebrazione eucaristica cui seguirà la conferenza dettata da Salvatore Martinez, responsabile nazionale del rinnovamento nello spirito e direttore della Fondazione Vaticana, Famiglia di Nazareth. Adesso ci occupiamo di sport, c'è il calcio, il gelo, l'esame d'attilo noir, domenica a Paceco la formazione biancazzurra cercherà di tagliare il traguardo della promozione in Serie D con due giornate di anticipo rispetto alla conclusione della stagione regolare. Sentiamo. Traguardo vicinissimo per il Gela, manca un non nulla per conquistare la Serie D, solo due punti a due giornate dalla conclusione della stagione in eccellenza. I biancazzurri sono lì ad un tiro di schioppo dal salto di categoria e sarebbe l'ennesimo negli ultimi anni. Gela che dopo la non iscrizione al campionato di Serie C è ripartito dai campi di veriferia, annientando avversari e conquistando promozioni una dietro l'altra. Domenica si gioca a Paceco e poi si chiuderà in casa con il Curs Palermo. Il portiere gelese Daniele Pandolfo, ieri ai nostri microfoni, ha detto che gli piacerebbe già festeggiare tra due giorni. Potrebbe essere, basterà vincere o nel caso in cui si pareggiasse, la San Cataldese non dovrebbe agguantare i tre punti col Camarat. Tutto è possibile. In terra trapanese intanto cresce di giorno in giorno la pilla per la gara col Gela. La società del Dattilo Noir, attraverso il suo sito ufficiale, ha inserito un comunicato il cui titolo è emblematico. Domenica non sarà una domenica come le altre. Domenica 10 aprile, al Giuseppe Mancuso di Paceco si legge, sarà di scena la capolista Gela. Un fatto straordinario che vedrà il nostro campo invaso sicuramente da una enorme folla di tifosi biancazzurri che non ha precedenti in tutta la storia giallo-verde del Dattilo Noir. Ma non è finita qui. Per il Gela quella stessa domenica potrebbe voler dire anche la matematica promozione in Serie D. Sicuramente troverà un Dattilo Noir che farà di tutto per strappare un risultato utile per una griglia di partenza nei play-off migliore possibile. Comunque vada, sarà motivo di orgoglio per noi ospitare e confrontarsi sul proprio campo con una compagine che ha fatto la storia del calcio dilettantistico e che fino a qualche anno fa calcava i campi della Serie C. Noi ci stiamo già preparando per poter accogliere nel migliore dei modi la carovana ospite che si prevede molto numerosa sia di gruppi organizzati che di semplici tifosi. Nessun problema perché al campo sportivo sarà tutto perfetto dal parcheggio alla tribuna. La società Dattilo Noir farà in modo che sia una bella e grande domenica di festa per il calcio. Siamo certi che domenica 10 aprile sarà un evento di quelli memorabili che rimarranno scolpiti nella storia del Dattilo Noir calcio. Noi confermiamo che sarà una festa per entrambe le squadre e le rispettive tifoserie. Ancora sport, ottimo esordio per gli atleti dell'Associazione Atletica Gela presieduta da Luigi Morselli alla sedicesima edizione della Maratona Internazionale di Milano. Laura Granvillano ha chiuso la Maratona infatti in undicesima posizione nella categoria F45. Buon esordio anche per Felice Bevilacqua. Hanno partecipato alla competizione anche componenti di Atletica Gela Luigi Morselli e Franco Cagnes. C'è l'informazione cinematografica e ustica. Per 35 anni ti hanno nascosto la verità. Il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela. Sono tre gli orari di rotazione della pellicola, 17.30, 19.30 e 21.30. Domani al Teatro Comunale Eschilo, alle 17.30 e alle 21.30. Roberto Ciufoli, Gaia De Laurentiis e Diego Ruiz porteranno in scena Ti amo o qualcosa del genere. Il botteghino è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. C'è anche un numero di telefono 0 933 91 18 92. Con questa notizia è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui e per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti